Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della terza puntata. La terza puntata di Un passo dal cielo 7 andrà in onda questa sera su Rai 1. Nel corso di questa terza puntata un cavallo sparisce e il suo proprietario viene ritrovato morto. Manuela cercherà di capire cosa è successo e oltre che sull'aiuto del fratello Vincenzo potrà contare anche sull'appoggio di Nathan. Inoltre la protagonista continuerà ad indagare su Paron. Cercherà di scoprire anche nel dettaglio quello che successe molti anni prima ad Adele quando subì violenza proprio da parte di Paron. Gregorio, nonostante si sia ripromesso di andare avanti dopo la morte della moglie, continua ad avere delle difficoltà in quanto genitore single. Riguardo a Vincenzo, inizierà ad essere geloso di Carolina e del rapporto con Hans. Inizierà addirittura a sospettare che la donna possa tradirlo. Sicuramente Hans è interessato a Carolina, ma questo non vuol dire che l'interesse sia reciproco. Sì che l'interesse sia routine di goto. Grazie.